Abbiamo voluto dedicare il nostro CEO Summit di racconto al racconto dell'evoluzione del mondo della comunicazione. Come già prima Valentina anticipava, lo faremo insieme ad alcuni dei principali player del settore, dei media e dei marketing, nonché nostri partner nello studio, delle iniziative dedicate a tutti i clienti. E quindi allora non innugiamo oltre e io invito a salire sul palco i protagonisti di questo CEO Summit dal titolo Evoluzione dei media e della comunicazione. Andrea Di Fonzo, CEO di Publicis Media e Chief Media Officer di Publicis Group. Accogliamolo con un applauso sul palco. E poi ancora Stefano Spadini, CEO di Avas Media Group. Un bell'applauso anche per lui. E infine completa questo CEO Summit Luca Vergani, CEO di Wavemaker Italy. Bene, Manuela allora, io so che lascio i nostri ospiti in ottime mani, ovvero le tue, vi lascio questo CEO Summit e ci rivediamo naturalmente più tardi. Con la seconda parte di questa serata non vi anticipiamo nulla perché ci devono essere anche delle sorprese. Buonasera, benvenuti naturalmente sul palco di Borsa Italiana e soprattutto in questa location che è organizzata nell'ambito dei nostri awards, però dedicata al mondo della comunicazione. Appunto abbiamo voluto, proprio perché il momento è cruciale, mi verrebbe da dire così e mi piacerebbe subito partire con una domanda un po' generica, ma che ci fa andare dritto alla questione di come oggi viene fatta la comunicazione. Perché lo sappiamo tutti, il panorama dei media, della comunicazione, del rapporto con il pubblico, perché di questo si tratta, è cambiato profondamente negli ultimi anni. Non è una novità questa, nel senso che cambia sempre, meno male che sia così, però è cambiato per un motivo su tutti. Poi potremmo aprire tante parentesi, però il motivo principale è stata la pandemia, che ha rimodulato un po' il modo appunto di rivolgersi a chi tutti i giorni ascolta quello che abbiamo da dire. Mettiamola in questo modo. Quali sono, partiamo una stessa domanda per tutti e tre gli ospiti, così rompiamo il ghiaccio, partiamo da Andrea Difonso. Quali sono oggi i mezzi più apprezzati e più utilizzati dal pubblico? Cioè, cosa avete notato dopo questo periodo di profondo cambiamento? Essenzialmente cosa chiede il pubblico? Buonasera a tutti. Quello che abbiamo visto con la pandemia, la pandemia è stato al di là degli aspetti ovviamente devastanti e terribili dal punto di vista sanitario ed economico, ma è stata una scintilla, è stato un acceleratore, un enzima che ha generato un salto in avanti per alcuni paesi o un recupero molto forte per altri e ha di colpo dato uno shock a quello che è l'uso dei media. Da una parte si può dire che c'è stata un'accelerazione della digitalizzazione, ma un'accelerazione dove sono entrati tutta una serie di nuovi consumatori che ci sarebbero arrivati magari con due o tre anni ci sono arrivati in due mesi di lockdown perché è stato un passaggio forzato e i mezzi non c'è più un elemento di cose più o cose meno apprezzato perché questo ha creato anche una fluidità enorme tra i differenti mezzi, una infedeltà da parte degli utenti, noi consumatori, chiamiamoci un pochettino come vogliamo e quindi la libertà di muoversi da una parte all'altra e non c'è neanche più una differenza così rigida tra quello, io guardo un contenuto, forse mi dimentico anche dove ho visto quel contenuto, l'ho guardato in televisione, l'ho visto online, ne ho vista la replica su un canale digitale, era su un social e quant'altro. Quindi la verità è che è diventato estremamente più forte, il potere si è spostato completamente nelle mani dell'utente, dell'audience, del consumatore e questo è irreversibile come percorso e come processo. Quindi è questo, si parte da qui per parlare di cambiamento mi pare di capire, è un po' il punto di partenza che poi può essere anche un punto di arrivo, si mischiano credo le situazioni in un momento in cui tutto si rimette in discussione perché anche questo è il punto. Il bello è di rimettere tutto in discussione. È appunto, esatto. Stefano Spadini, stessa cosa chiedo a lei ovviamente analizzando anche gli input che ha dato insomma al suo collega, se si ritrova. Credo che Andrea abbia tratteggiato in maniera molto lineare quello che è accaduto e quello che è accaduto poi si è riverberato su tutti i mezzi di comunicazione. Citiamo l'effetto che abbiamo visto sul mondo dei podcast, fenomeno di fatto minoritario tre anni fa ma che adesso fa parte della dieta mediatica. Va ad aggiungersi a una dieta mediatica che è continua perché ci si sveglia collegandosi a una radio via app piuttosto che controlando i propri feed social e restando connessi durante il tragitto commuting casa lavoro perché è importante anche tornare nei luoghi di lavoro per tutti gli impatti che ci sono anche relazionali. Quindi il media è diventato una presenza costante, il tempo speso sui media si è moltiplicato all'infinito, diventa fondamentale però l'attenzione che si dedica ai singoli contenuti perché è vero che un contenuto viene snackizzato su mille piattaforme diverse ma l'impatto che quel contenuto ha sul consumatore e quindi il valore che porta i brand che decidono di sposare quel contenuto con le varie forme di brand entertainment piuttosto che pubblicità tabellare classica diventa fondamentale perché diventa snack e lo snack non è un pasto completo. Quindi è importante riuscire lato agenzie, accompagnare i clienti a capire il valore che quel contenuto ha all'interno di una dieta modiatica che è diventata sempre più fluida, sempre più rumorosa, sempre più presente. Mi verrebbe da dire che lo snack aiuta a stimolare la fame però poi insomma il resto deve essere fatto con... appunto poi dopo deve essere soddisfatta perché se no si fa peggio. Allora Luca Vergani stessa cosa lei insomma cosa ha notato? Quali sono le richieste più forti che arrivano oggi? Sì mi viene da dire che hanno già detto tutto loro quindi sono totalmente in disaccordo con quello che hanno detto così almeno... Cambiamo, colpo di scena. ...a portare un po' di provocazione. È stata citata, è il mercato dell'attenzione per cui lo vediamo noi tutti i giorni, si guarda la televisione con almeno un apparecchio mobile in mano, l'iPad, Netflix abituato tutti a interrompere il contenuto da una piattaforma e ricollegarsi da un altro apparecchio tecnologico. Per cui la sfida per tutto il mondo della comunicazione, per cercare di aggiungere qualcosa dalla mia prospettiva, è appunto cercare di aiutare le aziende a intercettare i consumatori in un momento nel quale la loro attenzione, che chiama anche il contesto più adeguato, il momento della giornata più adeguato, magari anche una creatività declinata per quel consumatore in quel contesto, possa essere più rilevante, più performante e quindi generare una maggior quantità di vendite al minor costo possibile. Il rischio, la difficoltà poi della frammentazione dei mezzi è che i budget delle aziende non sono infinite e quindi non posso frazionare il mio budget per discorsi di soglia di visibilità e quant'altro, per cui aiutare le aziende anche a identificare quali possono essere i mezzi di comunicazione più idonei a raggiungere il loro consumatore in un momento di particolare attenzione e rilevanza sta diventando un po' la metrica sulla quale poi ci misuriamo tutti. Poi come diceva lei all'inizio, il nostro mondo è affascinante e faticoso perché è in continuo cambiamento, per cui il podcast che due anni fa nessuno sapeva cosa fosse, adesso sta esplodendo. Per cui c'è una capacità tecnologica che arriva sul mercato, le aziende di comunicazione reagiscono, i consumatori adattano in funzione del beneficio che pensano di averne e quindi poi è un po' una rincorsa continua. Assolutamente, l'evoluzione continua e infatti domani ci ritroveremo ancora per fare altri ragionamenti. Ma battuta a parte, adesso vorrei fare un'altra riflessione con voi perché l'errore più comune quando si pensa all'innovazione, appunto all'evoluzione al web è che tutti possano fare tutto, c'è ancora di più, è un errore proprio di forma ma che con le nuove tecnologie è diventato, a mio parere però, insomma, poi smentitemi se secondo voi sto dicendo qualcosa di sbagliato o non propriamente corretto, ma ha enfatizzato ancora di più questo aspetto. Cioè tanto basta accendere, schiacciare, clic, registriamo, diamo un messaggio e il gioco è fatto. Il web però non è solo questo, è sicuramente importantissimo e fondamentale per la pianificazione e credo che proprio la pianificazione distingua poi il risultato finale. Quali sono, quindi partiamo da qui anche con questa riflessione insomma su una forma che abbiamo, una forma mentis che molti hanno, quali sono gli elementi che vengono valutati nella selezione dei mezzi poi che vengono utilizzati per le varie campagne e che poi sono quelle che fanno distinguere una società da un'altra? Intanto la parola web è assolutamente fuorviante. C'è un passaggio di uno degli ultimi, l'ultimo libro scritto da Angelo Baiocchi dove non usa la parola web, dice il digitale è, di solito si dice il digitale è mobile, il digitale è la televisione connessa e quant'altro, si ferma al verbo è. Perché oggettivamente quello che abbiamo oggi davanti è un tutto, quindi quando parliamo di web parliamo di qualcosa che anche una televisione connessa è web. Abbiamo cambiato il protocollo, tutto quello che sta succedendo, la parte di notizie ed è vero anche che l'elemento digitale, quello che citava prima, è stato un abilitatore, qualunque strumento permette di produrre contenuti, però nel decidere dove pianificare, cioè il tema è dove trovare le audience che ci interessano, come entrare, come ingaggiare le audience che ci interessano, come farlo in luoghi, in contenuti che siano safe per i brand, che siano coerenti con i loro valori, i valori di marca, perché un altro elemento che la pandemia ci ha insegnato molto bene è che sono esplose l'attenzione, anche spietata, da parte dei consumatori nei confronti dei valori delle marche, dei brand, della loro attenzione, attenzione sociale, attenzione all'ambiente e quant'altro. E quindi la scelta di pianificazione è dettata dove trovo le teste che per me sono rilevanti, dove trovo i miei consumatori. C'è un concetto, siamo passati dal punto di vista della comunicazione, sempre il Bajocchi dice che il comunicatore è un mestiere onorevole, non è un sottomestiere, a passare dal cercare e comprare spazi pubblicitari a comprare audience, a cercare audience, che poi queste si misurino in la mia capacità di convincere, la mia capacità di insegnare o la mia vendita diretta. Questo è come misuro la parte finale. Ma io devo focalizzarmi e cercare, le mie scelte di pianificazione sono nell'andare a trovare le teste che a me servono per il mio brand e scegliere luoghi e momenti corretti. Interessante il discorso del comunicatore, no? Tornando alla Formamentis di cui parlavamo prima, che si ha tutta una concezione strana a volte di questo mestiere che invece ha degli step e degli obiettivi ben precisi. Insomma, questo è anche un po' l'obiettivo della serata, cercare attraverso dei professionisti di capirlo sempre di più per poi scambiarci anche delle idee. Stefano Spadini, stessa cosa, web, che cos'è il web oggi e soprattutto quali sono anche le questioni che vanno a distorcere il significato reale di comunicare attraverso le nuove tecnologie? Io penso che tutti i nostri telefoni siano pieni di terribili foto fuori focus, con le gambe segate. Che non cancelliamo mai, peraltro, così poi la memoria va. E quindi pensare che basti una videocamera per trasformarsi in novelli Spielberg o Tarantino sia un po' lunga. Questo per dire perché il valore del digitale è reso più accessibile, ma non per questo più semplice. Perché se perdiamo di vista il punto del contesto, e ci sono esempi nel bene e nel male di quanto sia chiave il contesto. L'industria del fashion, del lusso, del finance sono ossessionati dal contesto di fruizione. E cito un esempio invece di un'azienda tecnologica che per rispetto tengo per me, ma sono sicuro avrete visto tutti, che la settimana dello scoppio della guerra in Ucraina era al 100% non schippabile su tutti i siti di news italiani con la sua pubblicità. Bombardamento, primi missili su Kiev, c'erano loro. Io mi chiedo, ma fantastico, raggiungo milioni di impression, erogo milioni di impression, raggiungo consumatori con un livello di attenzione alta, ma in un contesto completamente sbagliato. E sono un'azienda di software e tecnologia. Ecco perché sono tre le leve. La capacità di raggiungere l'audience corretta con il contenuto corretto, ma assolutamente nel contesto corretto. Se non c'è contesto, si amplifica l'effetto distonico che la comunicazione può avere, c'è la ripulsione. Però è vero che a volte si tende più a pensare che sia meglio fare più click, e magari raggiungendo anche un pubblico che non è quello che noi vogliamo raggiungere. Ma quella è l'illusione dei numeri. Perché ho fatto, ti ho portato le audience. Ma in che contesto... Però non sono consolidati, poi lei dice, non è il tema. Ma no, ma poi sono in un contesto completamente distonico. Dopo l'11 settembre, Time e Newsweek, all'epoca lavoravo a Londra, realizzarono un numero speciale, interamente dedicato alla tragedia dell'11 settembre. La prima doppia pagina, Double Page Spread, era una compagnia di logistica che diceva l'importante... la campagna recitava, l'importante non è il decollo ma l'atterraggio. 20 anni fa. Immaginiamoci... ma non sto scherzando, mi ricordo che lavoravo da pochissimi anni e divenne un caso di pianificazione completamente sbagliata. Quindi si sbagliava con la stampa, si sbaglia assolutamente anche sul digitale. Ecco perché bisogna stare attenti, perché il digitale poi lo amplifica e lo rende memorabile, ben oltre la memoria del giovane planner di allora. Assolutamente, molto interessante questo, però appunto stiamo anche un po' percorrendo tutti quelli che sono gli errori, l'ho detto prima, di forma, perché non se ne parla mai. Poi ci si convince che il successo passi da questi errori, invece poi facciamo tutto il contrario. Luca Vergani, sentiamo insomma un po' la sua... anche tramite la sua esperienza che cosa si sente di dire. La domanda è cos'è il web... poi, come dire, cerco di unire un po' i puntini di quello che è stato detto. Oramai, figlio di tutta l'evoluzione tecnologica, creare delle separazioni nette tra mezzi distinti... Uno, è sbagliato perché i mezzi si stanno contaminando uno con l'altro. Due, è sbagliato perché il consumatore, quando viene esposto a una comunicazione, a un contenuto, a un messaggio pubblicitario, non ha più in testa, sto guardando la televisione, sto guardando il web, il digitale, l'addressable television, che cos'è, se fruisco YouTube dal televisore di casa, che cos'è. Per quello dicevo, il mercato dell'attenzione è capire il momento nel quale raggiungo un consumatore, con quale messaggio per evitare errori tipo quello che raccontava Stefano. Questo chiama sia la selezione del contesto, e quindi capire in quale contesto e in quale momento io vado a raggiungere il consumatore, che ovviamente è il messaggio che gli vado a deliberare per mantenere coerenza con i miei valori di marca e coerenza con poi il contesto all'interno del quale io appaio. La difficoltà di un mondo che cambia è definire anche delle metriche di misurazione che consentano a noi, per contro le aziende e alle aziende, di capire per davvero che cosa sta funzionando per non inseguire magari dei click facili di gente che poi arriva sul sito, si accorge di aver sbagliato e se ne va velocemente. Per cui sempre tenere in considerazione tutti questi elementi per poter ragionare insieme alle aziende in funzione degli obiettivi che poi cambiano e ecco l'unica cosa che ha fatto il web è accelerare, democratizzare l'accesso alla possibilità di raggiungere consumatori come poi va definito di volta in volta. Ha dato la possibilità a tutti di accedere e di fruire, poi invece insomma il modo di farlo cambia. Luca non scherzavo, riparto da lei. Abbiamo già detto che il modello di fruizione dei media è cambiato e su questo non ci piove. A questo punto l'esigenza dei clienti, cioè parliamo essenzialmente di questo, l'abbiamo già accennato strada facendo, però focalizziamoci su quello che chiedono i clienti oggi e quali sono i punti focali del loro approccio alla comunicazione. Cioè il nostro, insomma mi includo anch'io perché magari in modo diverso però faccio comunicazione, il nostro approccio lo abbiamo già un po' definito, ma che cosa stanno chiedendo in questo momento i clienti? Quindi a cosa siamo portati a rispondere? Allora, per cercare di semplificare, perché poi ogni azienda ha le sue esigenze, ha le sue modalità e le sue necessità. Ci sono dal mio punto di vista dei trend di medio e lungo periodo e delle evidenze che stanno emergendo drammaticamente quest'anno, figlio della guerra, dell'inflazione, dei costi di acquisizione delle materie prime, la disponibilità di materie prime, per cui quest'anno, credo di non dire niente di particolarmente rilevante, è successo veramente uno sconquasso sul mercato. Diciamo che di base quello che ci chiedono da sempre le aziende è di riuscire a fare una vendita in più, almeno una vendita in più, dell'anno scorso in maniera più efficiente e quindi rendere più efficace l'attività di comunicazione, perché tutti noi siamo condannati a crescere per due milioni di motivi diversi e quindi il fatto di voler crescere, voler fare di più, l'ottica della comunicazione è toccare anche elementi diversi che sono più di awareness, di conoscenza della marca o del marchio, di considerazione, per cui di percezione che il consumatore ha nei confronti del marchio oppure poi di conversione pura, ma qualsiasi delle tre fasi è importante perché influenza l'atto d'acquisto finale. Per cui questo, diciamo, è la storia che è sempre stata, è la richiesta che ci viene sempre fatta dalle aziende. L'evidenza di questo ultimo periodo è drammaticamente aiutarle a rendere ancora più efficiente, se possibile, l'investimento in comunicazione, perché tutte le aziende sono messe sotto stress dall'incremento dei costi su tutte le righe del proprio bilancio e quindi anche drammaticamente aiuterà a selezionare chi rimane dentro i piani e chi viene buttato fuori perché magari in logica di priorità è meno determinante per gli obiettivi di breve. Allora, Stefano Spadini, però lei così, questa volta sarà Luca Vergane a non avere niente da dire. Siamo democratici, anche visto che mi ha detto che il web è stato più democratico. Sono in mezzo, resto sempre secondo, mi va benissimo, ci mancherebbe. Credo che il compito di un'agenzia sia quanto mai oggi il bisogno, rispondere al bisogno principale dei clienti. Come affronto questo panorama in continua evoluzione? Dicevamo prima il media è onnipresente nella giornata di ognuno di noi, in mille forme diverse, con la snecchizzazione dei contenuti. Come posso costruire il mio brand e conseguire risultati di business, di awareness, di engagement che devo avere alla base del successo del mio brand. Quindi la nostra capacità di agenzia è non soltanto la misurazione di quello che accade da un punto di vista media, quindi quante persone ho raggiunto, a quale prezzo, ma che impatto ha avuto quella comunicazione. Se avendo servizi di sport marketing devo misurare con le metriche dello sport marketing quella singola attività. Non posso pensare di applicare il GRP alla sponsorizzazione del Milan, visto il mio accento dovrei dire della Fiorentina, però non posso pensare di applicare le stesse metriche sulle stesse attività. Quando Luca prima parlava dell'attenzione, come la misuro l'attenzione? Che impatto ha? Non solo sulla singola vendita, ma sul lifetime value del singolo consumatore. La sfida nostra dell'agenzia è affiancare i clienti a capire che quell'investimento in comunicazione e la pandemia ci ha insegnato che le aziende che non hanno abbandonato gli investimenti in comunicazione sono le aziende che poi sono ripartite prima. Tutti noi nel nostro portafoglio clienti abbiamo clienti che hanno deciso di abbandonare e clienti che non sono rimasti con gli investimenti. E tutti noi abbiamo toccato con mano che si trattasse del largo consumo, che si trattasse delle auto, che si trattasse delle telco. Le aziende che hanno continuato ad investire sono le prime che sono riuscite a ripartire e hanno guadagnato market share subito dopo la pandemia. E questo è un ruolo molto importante. Quindi misurare il media, sì, misurare tutte le attività che accompagnano la costruzione dell'esperienza di marca, che è un altro punto focale del successo di un brand. Io creo esperienze dal punto vendita, le creo con il media, le creo con le sponsorizzazioni, le creo con il content, le creo con l'e-commerce. L'e-commerce non è altro che un'esperienza per il consumatore, che sia poi un carrello, una vetrina, un carousel o una raccomandazione, ma sempre esperienza di brand, di marca è per i consumatori. Quindi la capacità dell'agenzia sta proprio nella misurazione di questo e nel navigare le infinite opportunità. Certo, la diffusione, insomma, poi sintetizzando con una parola unica, poi ovviamente che contempla tanti aspetti. Allora, ovviamente Luca Bergani sono certa che avrà altro da aggiungere, perché questo è un punto, appunto la diffusione, visto che mi collego all'ultima parola utilizzata da Stefano Spadini. Ecco, sembra facile, ma poi non lo è. Ecco, ripartiamo da qui. Non è facile, poi non è facile neanche, hai ragione Luca, parlare per terzo, tu ti hai giocato al poker, questa è la scala reale e quindi devo andare in rincorsa. Nell'ultimo giro lasciamo per ultimo Stefano Spadini che non ho ancora parlato per un lì. No, provo a barare un attimino sulla risposta che cerca di mettere, è vero, le aziende ci chiedono vendite, molto semplicemente, ci chiedono di misurare quello che fanno, ma ci chiedono anche, proprio per la logica di frammentazione, diffusione dei contenuti, dei mezzi, non sappiamo più qual è un mezzo, cosa è mobile, cosa non è mobile, e via dicendo, ci chiedono dove sono i miei clienti. Era molto più facile quando c'erano tre, sei canali televisivi, buone lì, due, tre siti e via dicendo. Oggi è molto complicato e i due risultati, quello di misurare, quello di arrivare a una vendita, parte da dove sono le mie audience, dove sono le mie teste, perché non le trovo più nella maniera classica in come ero abituato. La pandemia, ancora, che abbiamo citato prima, ha creato una netta separazione, ha creato una rottura. E in questo, dove le trovo, in quali luoghi, e qua reentra in gioco la distribuzione dei contenuti, la linearità su questi contenuti, il fatto che lì mi va bene, non sull'atterraggio dopo, che è importante l'atterraggio dopo un disastro aereo. Questo è quella che è un po' la somma di tre elementi. Ci chiedono di mettere insieme queste tre cose. La vendita, ovviamente, è il punto finale, ma dimmi come me l'hai misurata, come ci arriviamo, è il punto di partenza, però siamo noi. Noi siamo consumatori, siamo utenti, siamo in qualunque paese, siamo, e il punto è come vi trovo. Non siamo più dei 25-44 anni, 44-54, classico target, socio-demo, che non ha più, veramente, non ha più nessuna valenza. Non lo ritrovi più. Se dici, lo faccio in televisione, Brody, il mezzo per eccellenza più ampio che c'è, in realtà non c'è più la stessa quantità di test. Quindi dove le vado a trovare? Come le vado a trovare? In che momento? In che luogo? Per vendere e misurando quello che faccio. Assolutamente sì. Allora, prima di passare all'ultimo giro di domande per tutti e tre, volevo insistere un istante con Stefano Spadini su questo concetto, perché abbiamo parlato di evoluzione, di come bisogna in qualche modo farsi trovare pronti a questo processo evolutivo, cioè quello che ieri valeva, oggi non vale più, eccetera, eccetera, eccetera. Parlando però del cliente, cioè mi chiedo, e parlando ovviamente di contesto editoriale, quanto il cliente vuole oggi, con tutti questi cambiamenti che ci sono stati, rimanere in un ambito specifico o quanto magari è pronto anche a differenziare, ovviamente mi riferisco alla pianificazione, quanto vuole buttarsi, no? Insomma, nella variegata offerta che oggi magari c'è, facendosi indirizzare chiaramente da professionisti. Allora, l'importanza del contesto è chiave nel momento in cui le aziende diversificano la loro comunicazione, perché la diversificano su target diversi, che sia il largo consumo, che trova nicchie inesplorate grazie all'uso dei dati. Posso essere una tisana e lo stereotipo del target tisana è signora che ha 4-5 bisogni ben identificati, ma casomai scopro che c'è un target maschile che non ho raggiunto e questo lo faccio con i dati. In quel caso diventa chiave non solo il contenuto, ma anche il contesto all'interno del quale vado a comunicare il mio brand. Quindi l'importanza del contesto è più forte ora di quanto non fosse solo 5 anni fa. perché va di pari passo con il contenuto che vado a derogare. In realtà quello che poi accade nel lavoro di agenzia, e lo vediamo nella quotidianità con i nostri clienti, il rischio maggiore è quello di fermarsi al minimo comune denominatore. Faccio una scelta che in realtà non è una scelta, cerco di trovare qualcosa che più o meno va bene alla pancia del mio target di segmentazione, della mia segmentazione di target e quello è un rischio perché mi perdo la parte alta, mi perdo la parte bassa e divento inevitabilmente irrilevante ai fronti di un consumatore che ricorda molto di più le differenze. Se sono un profumo è evidente che ho una fragranza di un certo tipo, ma se mi limito a parlare di fragranza, io posso avere la fragranza A, la fragranza B, la fragranza C, ma sempre fragranza sono. Quindi per l'azienda diventa fondamentale lavorare sulla diversificazione, sull'elemento che è veramente distintivo e questo poi spinge chi si occupa di pianificazione a capitalizzare su quello per evitare di finire nel mare magnum della comunicazione dove in realtà poi non c'è distinzione. A creare quell'effetto tappezzeria di un motel dell'Arizona, entro, la vedo, mi rendo conto che è brutta e me la dimentico e non vedo l'ora di togliermela dalla testa. Non sono mai stato in un motel dell'Arizona, ecco, questo c'è. Te lo stavo per chiedere. Infatti vedevo che eravamo ronto. No, ma un'ultimissima cosa, però sono ancora su questo punto. Se dovessi chiederle, abbiamo delle campagne tradizionali, che il cliente, adesso ci siamo concentrati sul motel dell'Arizona, siamo lì. Però è importante questa precisazione, ma al di là abbiamo le campagne tradizionali, quindi quando un cliente vuole ovviamente pubblicizzare il suo brand e poi ci sono tutta quella parte di iniziative speciali, che vengono fatte una tantum. Ecco, che interesse c'è per queste iniziative speciali, ma soprattutto che effetto hanno? Cioè in media che risultati insomma riescono a raggiungere? L'interesse è altissimo perché mai come in quell'occasione io sposo quel contesto. Cito un esempio arcaico per far vedere che comunque l'evoluzione c'è, ma si parte da una base storica. Friends era sponsorizzato da Nescafé, perché Friends, vi ricordate la serie di oltre vent'anni fa, era ambientata all'interno di questo coffee shop. Esatto. L'inizio dei coffee shop erano sempre sul divano, si incontravano e c'era la mug di Nescafé, che era un elemento chiave, sponsorizzazione perfetta. Primissimi esempi di, si parla veramente di oltre vent'anni fa. Ovviamente adesso col digitale io posso accompagnare il contenuto ovunque sia. La misurazione dello stesso non la posso mettere sullo stesso piano di quanti GRP mi ha sviluppato, perché se io faccio quel tipo di attività non cerco OTS, o meglio, non cerco solo eyeballs, occhi, ma cerco di creare un legame con il mio consumatore e quindi devo misurarlo con altri items, intention to buy, likability, recommendation, eccetera. Quindi diventa fondamentale sempre più parte delle strategie di tutti i brand, pensiamo al fenomeno degli influencer, cinque anni fa zero, tre anni fa si iniziava a vederlo, adesso è un must della stragrande maggioranza dei nostri clienti e anche lì attenzione a non credere di essere tutti dei novelli Spielberg. No, esatto, questo è un po' il punto di partenza ma sarà anche il punto di arrivo, vedrete. Allora, Andrea Di Fonso, riparto da lei con una domanda per tutti e tre gli ospiti che ci porta alle conclusioni, quindi un, come dire, una riflessione un po' più flash, le tendenze che vedete per il futuro nell'ambito della comunicazione, insomma, così, per dare anche degli input alla nostra platea di questa sera. Faccio una tendenza al 2050 così poi venitemi a cercare se ho sbagliato. No, a parte le battute, credo che la forte tendenza che è anche la forte richiesta è di smetterla di guardare i singoli mezzi, cioè la parola mezzi proprio la vediamo superata, seguirò i contenuti che mi interessano e quindi l'audience che guarda quei contenuti ovunque essi siano, cioè proprio la dematerializzazione della, forse la stessa parola di piano media, di attività media che diventa obsoleta. Ok, questo è molto interessante. Luca Vergani, arrivo da lei. Sessa domanda. La tendenza dal mio punto di vista sarà per le marche la necessità di raggiungere, di avere uno scambio di valore con i propri consumatori, spettatori, ovunque li si voglia raggiungere che fa un po' il paio con la dematerializzazione dei silos o dei limiti dei singoli mezzi che chiama l'attenzione, che chiama un po' la somma di tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento. il consumatore si aspetta uno scambio di valore quindi io devo ricevere informazioni dall'azienda dalla marca che sono rilevanti per me nel momento specifico e quindi poi possono più facilmente portarmi ad acquistare un prodotto o ad avvalermi di un servizio. Oggettivamente non è facile perché io ho n milioni di consumatori là fuori raggiungibili in n milioni di momenti. Da questo punto di vista però le macchine e l'automazione ovviamente ci danno una mano e i sistemi anche poi di intelligenza artificiale ci aiuteranno a stimare meglio che cosa avrà bisogno il consumatore avranno bisogno i consumatori e quindi con quale creatività raggiungerli in quali contesti con quale rilevanza in ambienti safe per cercare poi di unire un po' tutti i puntini di quello che abbiamo citato fino adesso. Ottimo Stefano Spadini Io credo che la proliferazione dei punti di contatto e la snecchizzazione dei contenuti renda sempre più centrale l'esigenza di creare esperienze i consumatori ricordano esperienze la differenza tra una campagna media pianificata bene e pianificata male si vede perché non lascia esperienza al consumatore la capacità dei brand di accompagnare tutte le attività di comunicazione che fanno lasciando esperienze attenzione esperienze va dal sampling al product placement alla doppia pagina sul corriere per citare ma creo esperienza di marca i consumatori ricordano esperienze ricordano esperienze che sia poi un'esperienza che ritrova sul punto vendita che ritrova scaffale che ritrova in viaggio che ritrova all'autogrill ovunque sia però è coerente con l'esperienza di marca che voglio creare poi senza andare troppo lontano comunicare qualcosa è questo perché insomma non è parlare qua come la differenza concedetemelo tra sentire e ascoltare sentire lo sentiamo tutti ascoltare e recepire dei messaggi stessa cosa insomma il tema della comunicazione parlare un conto comunicare un altro quindi diciamo che possiamo concludere in questo modo io vi ringrazio moltissimo Andrea Di Fonzo Stefano Spadini Luca Vergani per essere stati con noi grazie insomma ci riaggiorneremo e ci evolveremo di conseguenza grazie mille grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti